Ben trovati ad un nuovo appuntamento con la voce delle istituzioni. Ospite quest'oggi in studio con noi è Massimo Sposato che è il presidente di APACNA Belluno. Ben ritrovato presidente. Grazie. Focus quest'oggi quindi sulle realtà del mondo dell'artigianato bellunese, sulle difficoltà che anche questo settore, in particolar modo questi imprenditori, si sono ritrovati a dover affrontare in particolare in virtù del Covid, della grande pandemia che ci ha investito tutti quanti. Facciamo proprio il punto della situazione presidente su come l'ha vissuta anche APACNA questa realtà e poi veniamo alla fase 3 invece. Ci siamo dovuti adeguare come tutti a quello che le disposizioni normative stabilivano, quindi nei nostri uffici ci siamo organizzati per poter dare il supporto alle aziende associate e devo dire che sono stati bravi i nostri dipendenti e compreso anche il nostro direttore perché è riuscito a gestire la cosa in maniera ottimale, dando tutte le informazioni che servivano. Uscivamo quotidianamente quasi con delle newsletter dove riassumevamo tutte le varie evoluzioni delle ordinanze che venivano emanate nel periodo cruciale, per poi arrivare a superare questo momento e entrare nella fase 3 con l'adeguamento dei DVR per tutte le aziende associate in modo che si fossero uniformate a quelle che sono le disposizioni date a causa del Covid-19 e dare poi il supporto che era necessario per la gestione anche della Cassa Integrazione e di tutte quelle richieste di contributi a fondo perduto che abbiamo fatto in maniera molto numerosa purtroppo. Perché c'è stata ovviamente questa difficoltà. Ecco ma veniamo appunto da quello che è il suo osservatorio privilegiato Presidente, adesso in questa fase 3, in questa fase di convivenza con il virus insomma c'è una ripresa, com'è la realtà dei fatti? Qual è la qualità delle nostre aziende? Ci sono alcuni settori che hanno ripreso con un po' di fatica però insomma si stanno difendendo soprattutto quello che riguarda la parte legata al mondo dell'edilizia che in questo momento è in attesa della partenza definitiva dei super bonus e magari ne possiamo parlare anche un po' più dopo. Per quanto riguarda invece gli altri settori c'è chi ha sofferto di più soprattutto nel settore del turismo e della ristorazione perché c'è stato un po' di calo, di prenotazioni ma poi anche la gestione degli ambienti con tutte le normative che ci sono in vigore è molto complessa e richiede un impegno non da poco però insomma siamo fiduciosi. Che ci possa essere appunto uno slancio ulteriore tra l'altro abbiamo così un po' dalla nostra il fatto che la montagna quest'anno in virtù proprio delle caratteristiche che essa offre la minor difficoltà insomma per quanto riguarda il distanziamento sociale insomma rende anche il territorio belunese più appetibile, no? D'accordo, infatti ho visto che c'è molta richiesta soprattutto di permanenza nelle attività più piccole proprio perché c'è meno rischio di entrare a contatto con tante persone quindi bed and breakfast, gli affitti a camere, i piccoli alberghi secondo me in questo momento stanno lavorando bene e per quanto riguarda invece la ristorazione i locali che sono adeguati ovviamente un po' di lavoro ce l'hanno però è concentrato soprattutto magari verso il fine settimana cioè non toglie il grande traffico che c'è sulle strade per arrivare nelle nostre montagne che purtroppo a causa dei cantieri che ci sono rendono abbastanza difficile arrivare nei luoghi di velleggiatura e quella è un'altra problematica insomma su cui si deve lavorare si deve cercare di fare rete anche con le istituzioni del territorio insomma in modo da riuscire a superare questa difficoltà tra l'altro presidente fra i settori mi sembra di ricordare anche le imprese legate al benessere acconciatori ed estetisti hanno avuto diciamo un percorso travagliato prima di riuscire a ritornare operativi giusto? si è stato difficile proprio perché c'erano una miriade di disposizioni di normative da rispettare però poi una volta messi a posto hanno incominciato a lavorare e in qualche modo hanno anche ripreso un po' il ritmo forse anche grazie agli arretrati che avevano stanno recuperando qualcosina stanno recuperando molto bene lei parlava presidente prima dell'edilizia settore che lei ovviamente conosce molto bene ecco in particolar modo adesso come si sta comportando? l'edilizia accennava anche al super bonus alle diciamo le agevolazioni, gli aiuti che sono giunti dal governo per cercare di dare così uno slancio ulteriore in questo momento vedo un po' di stallo proprio perché si è in attesa di capire in maniera chiara e approfondita quali saranno le disposizioni attuative della legge che è entrata in vigore lo scorso 16 luglio se non ricordo male e quindi siamo un po' in attesa di questo sviluppo nel frattempo sentendo anche un po' i miei colleghi e i miei fornitori c'è un po' di stallo in questo momento sinceramente però siamo tutti fiduciosi come dicevo anche prima che questo strumento di super bonus porti un po' di respiro a questo settore ecco, qual è l'obiettivo comunque? quello di puntare ad un'edilizia sostenibile cioè sempre più rispettosa dell'ambiente? sì, effettivamente uno degli argomenti cardini di questo super bonus è la riqualificazione energetica utilizzando materiali che rispettino i criteri ambientali minimi quindi che abbiano una tracciabilità del prodotto sia per quanto riguarda la produzione sia poi anche la lavorazione e l'eventuale smaltimento quindi è un argomento molto interessante non sono ancora tutti quanti adeguati a ragionare in questo modo perché bisognerà un po' approfondire la questione soprattutto con i fornitori però è un modo per rendere la lavorazione più sicura dal punto di vista del rispetto ambientale e poi c'è l'altro aspetto che è la riqualificazione energetica quindi spendere meno per scaldare poi c'è anche la parte dell'adeguamento sismico e anche quello è uno strumento interessante perché permette di mettere in sicurezza gli edifici che la maggior parte del nostro territorio hanno non ancora adeguati dal punto di vista sismico di resistenza appunto alle sollecitazioni che potrebbero causare con un sisma Venendo adesso ad un altro tema Presidente c'era anche quello del blocco dei licenziamenti che è stato imposto dal governo questa è una misura che sicuramente ha in qualche modo tamponato alcune situazioni di difficoltà sotto il profilo proprio dell'occupazione per il mondo dell'artigianato diciamo com'è la situazione in questo momento? Ci sono realtà che hanno dovuto chiudere? Qual è lo stato di salute? Ci sono alcune aziende che hanno e stanno tuttora sfruttando gli strumenti messi a disposizione dallo Stato che è appunto la Cassa Integrazione per quanto riguarda il Covid-19 che dovrebbe scadere a fine luglio però c'è il blocco del licenziamento che è posticipato a 17 agosto quindi allo stato attuale rimarrebbero una finestra di temporale in cui quelle aziende che si trovano a non avere lavoro o calo di richieste di ordini dovrebbero coprire autonomamente le spese per il personale in quel periodo appunto che dicevo non coperto quindi questo è un argomento che è sul tavolo delle trattative che stiamo seguendo anche con la nostra Confederazione Nazionale proprio per cercare di prolungare questo strumento in modo da dare la possibilità alle aziende di non occuparsi direttamente di queste spese in un momento difficile come questo di grande difficoltà appunto e fra le difficoltà da superare e di cui un argomento di cui si parla molto dibattuto anche a livello nazionale appunto in questi giorni vi è la questione dei versamenti fiscali anche qui per un imprenditore insomma per un artigiano anche questa è una difficoltà perché comunque la pandemia è inciso il lockdown, la chiusura però le tasse vanno pagate dovrebbero essere pagate però non c'è la volontà di una proroga in questo momento perché da ieri, quindi dal 20 luglio partono una serie di impiementi fiscali che superano le 200 tipologie di pagamenti da adesso a settembre io ho letto che in altri stati europei hanno in qualche modo prorogato o sospeso fino a fine anno insomma hanno dato una mano in questo senso qui ancora oggi non si sa nulla dovrebbe esserci addirittura uno sciopero anche dei commercialisti sentivo proprio organizzato per oggi per cercare di far capire che le aziende sono in difficoltà e andare a gravare su di loro ma questi adempimenti è veramente problematico sì, diciamo che la pandemia ha davvero reso ancora più difficile anche la quotidianità stessa di quelle che sono comunque le scadenze di quelle che sono tutti i vari adempimenti appunto che una realtà aziendale si trova a dover affrontare veniamo però alla questione che lei faceva prima Presidente anche in riferimento alle infrastrutture sappiamo anche la provincia di Belluno come è estesa sappiamo quanto significative siano proprio queste anche in virtù dei grandi eventi che vedranno la provincia di Belluno insomma protagonista da qui ai prossimi anni uno fra tutti i mondiali confermati nel 2021 secondo la vostra realtà qual è appunto che cosa rappresenteranno questi mondiali è il territorio pronto appunto per questa sfida? è un'opportunità importante sarà molto risalto al nostro territorio quindi noi siamo favorevoli ovviamente a far sì che questo avvenga nel migliore dei modi siamo secondo il mio punto di vista un po' indietro per quanto riguarda la questione delle infrastrutture ad oggi ancora non ho avuto la sensazione di investimenti proprio finalizzati finalizzati a quell'evento se non rivolti soprattutto all'ambiente sportivo quindi hanno rifatto alcuni impianti sportivi con, scusi, mesistici con il facimento di alcuni tratti della seggiovia o funivia insomma stanno investendo molto su quello che è l'adeguamento delle strutture però per quanto riguarda il resto non ho ancora sentito una grossa variazione dal punto di vista del lavoro per le aziende che comunque sicuramente quando inizierà questo ITER che porterà appunto ai mondiali ci sarà una ricaduta anche per le aziende artigiane perché insomma il territorio è ricco di aziende artigiane proprio e poi uno slancio per il turismo assolutamente sì il turismo è il settore trainante per questo evento però di conseguenza tutto il resto ne beneficerà e voi come APIA CNA fate parte del tavolo dedicato proprio all'infrastruttura è che affronta anche le tematiche principali uno di questi problemi in vista proprio anche dei grandi eventi da risolvere a che punto sono i lavori di questo tavolo? il tavolo delle infrastrutture si riunisce spesso proprio per discutere su quegli argomenti che non sono solo legati all'infrastruttura ma proprio un po' tutto quello che è la gestione del territorio dal punto di vista delle associazioni di categoria è rapportato poi con le varie istituzioni l'argomento principale che è stato affrontato sulla questione dei mondiali di sci è proprio la gestione degli appalti è stato cercato di parlare è stato fatto un incontro anche con il prefetto proprio per assicurarsi nel nostro rispetto proprio delle regole che ci sia un attento controllo di quello che è il protocollo di legalità e che gli appalti vengono affidati alle aziende strutturate, certificate in modo che non ci siano eventuali pericoli di infiltrazioni mafiose questo è un argomento delicato poi la gestione è demandata alle grosse aziende tipo l'ANAS e quindi possiamo intervenire poco ho visto che ci sono alcuni appalti che sono partiti per quanto riguarda il modernamento della Statale 51 con aziende quasi tutte da fuori a parte qualche episodio e quindi riuscire a far sì che ci sia un po' di lavoro per le aziende del territorio non è così semplice questo dovrebbe essere un obiettivo a cui arrivare e tra l'altro diciamo su questo voi siete attivi appunto anche perché in virtù della pandemia dove ci sono difficoltà insomma ci possono essere maggiori tentativi di infiltrazioni questo non solo appunto per quanto riguarda il tema delle infrastrutture ma anche insomma sull'ambito ricettivo sappiamo che la prefettura sta tenendo diciamo così alta l'attenzione su diversi fronti un altro tavolo a cui voi partecipate Presidente è anche quello delle politiche attive coordinato dalla provincia dell'ente provincia sì noi siamo anche partecipiamo a quel tavolo proprio per dare il nostro supporto per cercare di gestire anche i fondi che ci sono disponibili e cercandoli di raccogliere sempre di più anche per la gestione di quelle che sono le politiche rivolte alle persone che vivono nel nostro territorio per evitare che ci sia quell'incremento che già c'è ma anche dello spopolamento insomma che è un argomento molto sentito e che leggevo proprio anche in questi giorni è in continuo aumento sia come spopolamento sia come mancata natalità quindi ci sono proprio problemi strutturali da cercare di risolvere che sono legati alla montagna bellunese questa è la sfida delle sfide però guardando invece ad una nota positiva vediamo che gli associati, i vostri associati sono aumentati nell'ultimo anno anche quest'anno abbiamo il maggior numero di associati in provincia quindi è anche una soddisfazione mia e personale di tutto quanto il gruppo dirigente perché cerchiamo di lavorare bene quindi è una conferma che ci stiamo impegnando per far sì che le aziende trovino nella nostra struttura il supporto necessario per superare sia momenti come quelli che stiamo vivendo adesso e sia tutti quelli adempimenti che sono la vita quotidiana delle aziende e anche per cercare di avvicinare magari anche i giovani al mondo dell'artigianato su questo fronte ci sono anche in questo caso dei progetti come riuscire ad attrarne sempre più i giovani le nuove generazioni a queste attività di tipo artigianale appunto? noi seguiamo dei percorsi di formazione scuola-lavoro quindi siamo attivi in questo argomento e poi cerchiamo di fare sì che la montagna e i riempimenti che ci sono, non vorrei essere ripetitivo ma è così, siano il più snelli possibile proprio per far sì che anche un giovane imprenditore trovi nel nostro aiuto e supporto per riuscire a superare quelle che sono tutte le attività necessarie per avviare un'attività poi bisogna vedere il settore ma insomma cerchiamo di coprire un po' tutti i settori che ci sono in modo da riuscire così a dare questo ricambio generazionale che anche per le aziende del territorio insomma è importantissimo fondamentale per riuscire a mantenere la vitalità appunto della realtà che crea appunto questo tessuto imprenditoriale importante che nella provincia di Belluno insomma c'è io Presidente noi abbiamo dato così una carrellata dei vari argomenti ovviamente ci sarebbero anche varie altre tematiche di cui parlare ma insomma ci ritroveremo presto per affrontare di nuovo altri discorsi intanto ovviamente buon lavoro a lei e a tutti i suoi collaboratori grazie, un saluto a tutti, grazie a tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto, arrivederci